Signori benvenuti in una nuova puntata della Skyopolis nella scorsa puntata abbiamo fatto quel mostro che non è un mostro, poverino, non trattatelo come mostro qui dalla Tinker in modo che praticamente potessimo fare in automatico no, però potessimo tranquillamente prendere, non so, l'Anciate Debris buttarla qui dentro insieme all'oro e ottenere ovviamente un bel po' di inelite abbiamo giusto uno stack, ma così cioè potrei farne molta di più però raga non mi interessa adesso adesso ora come ora non è una cosa importantissima ovviamente off camera vi ho detto che ho già fatto tutta questa cosa che è molto comoda raga, è molto molto comoda infatti adesso abbiamo tutti i materiali base più anche qualcosa extra allora oggi che cosa facciamo raga? l'ultima cosa cioè un'altra cosa che in teoria va automatizzata sole cerca di andare giù perché voglio dormire è l'ossidiana l'ossidiana ragazzi serve per fare per l'appunto il refined obsidian refined obsidian che poi ovviamente ci serve per fare il crystalline ingot questo lingotto qua che ci serve per l'appunto per ottenere a parte l'ultimo i time got ma ci serve per ottenere anche altre cose oltre a questo raga ci serve le natured ender ingot che è questo coso qua che raga questo da solo vuole vuole la bellezza di nove nether star più ovviamente altre quattro cioè è fuori 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 di testa fuori di testa cioè andiamo a controllare perché quattro li ottengo da qua in realtà no ne vuole otto perché quattro sono agli angoli e poi quattro sono qui dentro qui sono otto più nove nelle star cioè dovrei uccidere il wither un sacco di volte ma anche no ma io direi anche no perché allora questo innanzitutto possiamo toglierlo recuperare anche la diciamo la la piattaforma per fare eventuali altre cose più che altro mi sa che di qua mi possono sponare le merde ecco me lo immaginavo me lo immaginavo sento il rumore strano vabbè andiamo a fare così 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 perfetto allora dai blades abbiamo ottenuto la bellezza di quasi uno stack di basic essence mob essence o quello che è qua andiamo a chiudere ovviamente il tutte cose perché mi urta alquanto vedere questa cosa qua perfetto allora cosa voglio fare oggi ragazzi serve assolutamente automatizzare l'ossidiana come fare per automatizzare l'ossidiana adesso noi possiamo dire al voglio provare una cosa non so se l'ho già provata ragazzi non ho magma cream no no scusa ma che bello ma che bello ok basta andiamo a prendere per l'appunto il magma cream ne ha fatto 100 nel giro va bene no mi sa che l'avevamo già provata peccato peccato come poter fare allora abbiamo il drawer del basic mobile sense no ora questo ci servirà per duplicare la come si chiama la la nether la nether star quindi quindi ne dobbiamo ottenere tantissima allora noi possiamo fare un bel allora mi sembra che l'avevamo l'avevamo già fatto il formulaic bla 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 l'avevamo fatto per un'altra cosa però alla fine non l'avevamo utilizzato allora formula ecco qua crafting formula mi serve un basic control circuit che non ho eh non c'ho l'autocrafting del basic control circuit mi sono completamente dimenticato del basic control circuit oh gesù 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 allora due di redstone e un osmio mi fanno ottenere allora questo non questo ma bensì questo quindi 4 di osmio mi fanno ottenere 4 basic control circuit ok quindi in questo modo dovrebbe essere automatizzato alla grande proviamo a chiederne non lo so tipo una decina lui dovrebbe mandare tutte le cose nel punto giusto e fare bim 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 come piace a noi come piace e dovrebbe svuotarsi il metallurgic infuser vediamo verifichiamolo insieme 2 1 ma siamo bravissimi ma siamo bravissimi allora mi serve il formula bla 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 crafting formula thank you gli diciamo dobbiamo prendere il magma cream e mandarlo all'interno del del formulaic assembly assembly kator no perché crafter era difficile da chiamare capito cioè alla fine fai quello ma tu lo chiami formulaic assembly kator ma che cazzo di cosa ti sei fumato per dare questi nomi veramente ma tutti tu sei fuori di testa allora quindi questa cosa l'abbiamo capita dobbiamo mandare il formulaic dobbiamo mandare il magma cream all'interno del formulaic assembly kator per fare il come si chiamano ora il problema è uno solo uno soltanto ovvero ma tu stai 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 ebbè certo certo tu stronzo di merda ma ma vaffanculo vai allora mi ha cambiato il giro della della cosa però il problema è che questo cazzo di hopper come fare allora il vacuum hopper è una merda raga il vacuum hopper è una merda perché per il semplice motivo che lui prende tutti gli oggetti e non abbiamo un filtro o c'è o magari c'è il filtro non me lo ricordo allora vediamo ma mi sembra molto molto strano mi sembra che non ci fosse il filtro allora facciamo così così e così purtroppo la laser io per quanto possa essere potente non ha allora proviamo a vedere filter non c'è un filter cos'è questo rftools e cosa scusa cosa aggiunge la rftools crafting card e machine frame machine infuser perché dovrei fare il machine infuser non ho capito perché abbia aggiunto questa mod raga formation screen cioè perché hai aggiunto queste cose vorrei capire vorrei entrare nel tuo cervello e capirlo allora andiamo a controllare nella mob grandi goodies allora no lui lui non ha dei filtri quindi ci attacchiamo un po' allo zufogotto questo non ci serve a noi merita minchia poche parole l'absor cioè l'unidiretional hopper potrebbe ma l'unidiretional hopper lo possiamo mettere anche in un altro modo lo possiamo mettere anche tu vai qui no 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 togliti 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 no quello mi serve porca puttana allora omnidiretional hopper ok facciamo drawer o un ender chest meglio un ender chest perché comunque dobbiamo fargli vedere al al signorino che allora se io tipo metto così ok se io faccio tu sei una merda tu sei una merda sei una merda ok quindi obsidian dicevo verifichiamo insieme che ovviamente faccia il suo sporco lavoro oh very good quindi lui mi importa solo quando c'ha ovviamente allora glass ma io direi di fare il clear glass è più carino clear glass ripara clear glass sostituisce allora andiamo a prendere un po' di send un casting basin e ci vediamo ok ragazzotti abbiamo tutto quindi io direi subito di piazzare vetro 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 no vabbè questo qua no non non ha senso blossom thank you very much questo possiamo anche mandare al creatore facciamo così la bellezza del vetro della tinker è sempre un piacere allora facciamo in questo modo molto bene molto bene facciamo così 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 lo mettiamo proprio tutto nel vetro che è molto più carino si vede tutto ok quindi 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 però qui bisogna droppare con un bel shoot allora vi faccio vi faccio vedere un paio di cosine molto interessanti allora facciamo così ah tra l'altro raga ho scoperto una cosa molto interessante ovvero quando noi stavamo litigando con i shoot vi ricordate che tipo mettevo il filtro però non vedevo il coso scroll no tipo qua si vede qua no per far vedere cioè non so perché lui il filtro cioè lui questa cosa del scroll lo vede solo se c'è un inventario collegato direttamente sopra non so perché però allora exporte magma perfetto qua facciamo così e gli diciamo solo lavora solo col segnale di redstone lavora cioè mandami i magma block solo col segnale di redstone ora detector molto easy da fare possiamo fare tutto la risposta è no perché non abbiamo il fottutissimo comparatore che è un odio un odio per tutti fare il comparatore ma tu mi stai prendendo più il culo mi hai detto che uno ce l'avevi già però eh plants mamma mia oh tieni vai poi detector ti manca una redstone oh che due coglioni mamma mia t'ho uno stack di redstone torch minchia mamma mia quando ti metti proprio devi rompere i coglioni e basta facciamo così poi qua c'è rice ed iron forse facciamo detector però aspetta questo potrebbe essere allora facciamo così lo prendiamo non so se lui funziona però qua mi da un fastidio enorme perché potrebbe dargli potrebbe dargli fastidio ma non penso comunque quando vedi quando sei al di sotto di e metti un segnale quando sei al di sotto di 2000 di ossidiano così ci abbiamo qui 48 nel drawer di sforo ok quindi perfetto esporta cioè lavora con segnali redstone ed esporta questo cosa qua only work if segnale di redstone bla 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 perfetto tu hopper me lo dovresti mandare lì dentro e il shoot dovrebbe mandarmelo qui sotto perfetto ora cables in realtà me ne servono un altro po' ne faccio fare un pochettino così almeno siamo più tranquilli facciamolo pure scendere in questo modo e andiamo a ricollegarlo di là ora lui dovrebbe esportare quel poco di magma cream ma mi sa che non ce n'è proprio quindi possiamo già iniziare a craftarne un pochettino no facciamo così lui dovrebbe iniziare ad esportare e la roba funziona la roba funziona però non so perché ma non è che questa è grigia 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 sa di sì lo sai sì era grigia 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 e ora ho perso quella cazzo di ossidio e mo che cazzo di grigio era light gray non lo so va bene che cazzo cazzo vi devo dire però perché tu non prendi perché non prende gli oggetti perché non prende l'ossidiana in teoria dovrebbe prenderla l'ossidiana dai ma non è possibile non c'è un cazzo di di cosa che dai ma non c'è veramente ora no no allora raga un attimo solo ci metto poco voglio provare una cosa innanzitutto qua togliamo l'ender chest nel solito modo perché non è possibile c'è veramente guardate mi fa girare i coglioni allora noi avevamo fatto i destrattori o comunque li potevamo fare facciamo ricraftare qualcosa no scusate facciamo così e lo mettiamo e però aspetta devo fare devo mettere un blocco togliti e poi fare così gli diciamo yes e gli diciamo riprendere solo mod white list ok quindi se noi mettiamo adesso del glass qua no colleghiamo il tutto no è tipo ah mi serve l'altro magma block raga in realtà la mia idea quando vi ho detto stacco un attimo era un'altra era un'altra ora ve la spiego in realtà era installare la come si chiama un item collector che fosse decente non questa specie di schifo di hopper che non serve a niente quindi facciamo un po' di magma cream lo buttiamo qui dentro lui dovrebbe buttarlo in automatico di là ecco qua proprio così in questo modo ora se lui una volta che si trasforma si cazzo si si mamma mia si cazzo si perfetto 65 e anche discretamente veloce non dovrebbe diciamo droppare chissà quanti oggetti perché comunque possiamo rallentare magari il formula e cassembler allora per fare questa cosa prendiamo un bel exporter e anche questo lo dobbiamo bloccare dobbiamo dirgli quando c'hai un tot di magma cream qui dobbiamo fare allora facciamo l'autocrafting del detector che mi sono già roto i coglioni di farlo io detector facciamo così facciamo così autocraftiamo tutto tranne la redstone torch non so ti coglioni di andare a umma umma ogni volta con le pattern vai mamma mia allora poi il comparator poi redstone torch gli stick si fanno così e le planks si fanno così quindi facciamo no questo bim 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 dammene uno al volo dai allora ricordiamoci che il l'exporter cioè il detector funziona verso l'alto credo una cosa del genere quindi possiamo mettere il formulaic assembler così poi perché tu non hai il cavo dietro non ho capito vai allora no in realtà possiamo togliere dai raga però c'è veramente il fatto che me li tolga in questo modo lentissimo allora possiamo fare no possiamo toglierlo di nuovo perché sono masochista fare così e metterlo qui sotto poi mettere formulaic assembler c'era già una crafting formula ok gli diciamo così encode formula automode on ok quindi very good poi importer l'exporter l'exporter l'abbiamo già fatto quindi lo mettiamo di qua e lo mettiamo di qua poi cavettino magico così qua ovviamente gli diciamo speed upgrade stack upgrade speed ne facciamo fare altri tre per favore grazie quindi qui facciamo 1 2 3 e 1 poi 1 1 2 3 so good ora dobbiamo dargli energia al signorino quindi ma in realtà potrei fare anche un'altra cosa però ormai è troppo tardi è troppo tardi signore come fare come fare poi lo facciamo così 1 2 3 4 saliamo oh facciamo così hopla perfetto poi così e così lui adesso dovrebbe ricevere l'energia ora gli diciamo che deve prendere gli oggetti da sinistra e mandarli via da da sopra ovviamente lui non funziona ah perché sono un deficiente giustamente allora cosa gli diciamo quando hai i magma block ne hai più di ne hai facciamo 100 facciamo 100 non ce ne servono così tanti quando sei al di sotto di questo valore qua ok qua lavora con il segnale di redstone e gli diciamo esportami il mi dimentico sempre che posso fare così il magma cream ora lì sotto dobbiamo collegare ma in realtà potrei collegare anche così molto bene ora abbiamo quasi fatto raga abbiamo quasi quasi fatto facciamo così attiviamo un attimino prendiamo un po' di livelli tanto volevo fare una cosa allora ne abbiamo refiner obsidian fammene una decina giusto una decina il problema è che la refiner obsidian oltre che sprecare oltre che aver bisogno di tanto tempo ha bisogno anche di diamanti quindi dobbiamo stare ben attenti allora refiner obsidian piccades ascia e pala questa è già una refiner obsidian sword quindi questa la togliamo diciamo 1 2 e 3 e abbiamo il paxel che fa 17 cioè fa più della fa più della spada cioè fuori di testa ha un bel po' di utilizzi allora quindi qui dovrebbe già funzionare la magia ecco qua perfetto 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 poi di qua dovrebbe fare l'ossidiana e si sta già accumulando quindi facciamo così drawer drawer chiave del potere raga queste me le butto non mi servono a niente poi mi serve mi serve mi serve mi serve un'altra cosa allora fammi ragionare fammi ragionare fammi ragionare allora allora come fare come fare allora devo fare sì devo prendere innanzitutto l'obsidian me ne ha fatto tipo una ventina in giro di pochi secondi benissimo mi sta proprio simpatica questa cosa facciamo così qua mettiamo l'ossidiana e facciamo così quindi lui dovrebbe fermarsi in teoria a a quando a mille blocchi come vedete non è velocissimo ma io voglio che sia così perché ragazzi mi droppa troppi oggetti e poi c'era un puttanaio quindi meglio così quindi lui benissimo va benissimo ora cosa ci serve fare altro no il magma cream non ci serve nient'altro se non a fare l'ossidiana giusto possiamo verificarlo insieme sì ci serve per fare qualche altro crafting ma non non mi interessa più di tanto quindi diciamo che un centinaio di di questi così qua potrebbe andare benissimo no quindi cosa facciamo un altro detector che me lo crafta velocemente queste me le butti qui dentro non mi servono più hanno i cavi però mi servono ora magma dovrebbe avere ancora il magma cube facciamo così e facciamo così facciamo così facciamo così e gli diciamo quando quando vedi 100 under di di coso quando vedi 100 magma cream ferma il segnale di redstone ora tu ti puoi piazzare qua giusto perfetto quindi andiamo di sotto e mandiamo il cavo della refined che sta di là un po' lontano però non dovrebbe essere un problema intanto raga c'è il sole fuori e io non vedo un accidente nello schia minchia stava facendo c'era così figo cazzo la temperatura di oggi deve uscire il sole adesso che esca il sole quando sono già in Sardegna in ferie porca miseria non qua qua non mi serve niente se non esce il sole è anche meglio ok adesso possiamo fare vabbè si no voglio che le cose siano precise non ci vedo niente grazie Gesù ok quindi in teoria dovrebbe dargli ahhh che goduria che goduria raga gli da il segnale di redstone perché vede che ci sono meno di 100 magma cream lui le manda ovviamente dobbiamo fare ah ecco adesso cade proprio a fagiolo cade proprio a fagiolo mi serve un altro fan di quelli della create quindi mi serve un altro di questi e un altro di questi poi flint flint and steel dovrei averlo mi serve tanto alla fine allora prisman in crystal si facevano con lapislazio di vero? si lapis che ne abbiamo un bel po' ci mettiamo pam 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 no si chiamano coquel mettiamo la coquel facciamo così no facciamo così qua mettiamo la coquel oh me la metti bene porca miseria ok allora poi qui mettiamo questa cosa qua che dovrebbe aspirare no però non vogliamo che ha speed quindi ci serve una gearbox ok facciamo così solo per adesso raga solo per adesso facciamo così soul sand flint and steel facciamo così così no ok aspettiamo un attimino in realtà possiamo accelerare molto bene 6 prismarine crystal quindi in teoria dovrebbe essere possibile aumentare il raggio d'azione di sto ciccione il problema allora il problema è che ci sono loro allora aspetta un attimo facciamo così non dovrebbe mettere segnale di redstone facciamo mettiamo ovviamente lo spawner dei aumentiamo il raggio di un pochettino dai fai vedere spawn range 4 voglio vedere fin dove spona ovviamente se io sono qua tipo non spona qua qua spona allora se io sono qua me le spona si continua a spawnare anche qua anche qua qua non più mi sa si solo da qua cioè vedo che gira il coso quindi spona e in realtà potrei fare altri lapislazzuli cioè potrei buttarli proprio così come se non ci fossero domani molto bene quanti ne abbiamo oh 47 quindi andiamo a disattivare un attimino il signore facciamo così tanto qui dovrebbe esserci un po' di livelli ok quindi dovrebbe spawnare molto lontano activation range ok quindi possiamo metterlo anche agli altri volendo questo era quello degli enderman e questo quello dei blades siamo riusciti a potenziarlo del tutto questo è lui the skeleton lo lasciamo così quindi uno due qua facciamo così lui si attiva ogni volta cioè in tutta noi possiamo possiamo rimanere possiamo girare in tutta la base raga quanta ossidiana mi ha fatto 349 questa ragazzi è una bella farm tutta articolata allora ve la spiego in breve perché magari tipo potrebbe essere diciamo complicato capirla allora una cosa che vi consiglio soprattutto se dovete giocare con oggetti che vengono droppati quando avete la refiner potete gestirla in questo modo ovvero con i detector con i detector potreste potrete gestire praticamente qualsiasi aspetto della farm allora cosa ci serviva in generale ci serve l'ossidiana che viene ottenuta nel magma block che viene ottenuta nel magma cream i magma cream li possiamo ottenere sia dalle slime con i blades oppure direttamente dai magma cube quindi siccome noi abbiamo uno spawner di magma cube che comunque è bello potente non ci serve che sia più veloce ragazzi non ci serve assolutamente abbiamo ho deciso di fare in modo che vengano che venga attivato lo spawner ogni qualvolta lui vede solo 100 ragazzi allora possiamo fare una cosa anche possiamo fare una cosa molto intelligente ora vi faccio vedere che cosa aspettiamo che lo spawn fa stile su esatto che cosa No, 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 no. 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 No, 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 no.